Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Alcuni parlano di spaccatura all'interno della maggioranza dopo le dichiarazioni di Sergio Costanzo, Convenzione Bambin Gesù contro una lista di Scopelliti. Lei cosa dice al riguardo? Io mi sono già espresso pubblicamente nella qualità di Presidente del Movimento per Catanzaro, una componente penso importante all'interno della maggioranza che governa il Comune di Catanzaro. Assolutamente, ed anche nella qualità di assessore, quindi ne avrei contezza, non esiste, ribadisco, non esiste alcuna turbolenza all'interno dell'amministrazione comunale. Le dichiarazioni dell'amico Sergio Costanzo si riferiscono a vicende che riguardano altre istituzioni. Conosciamo tutti e rispettiamo la sensibilità del consigliere Costanzo rispetto a vicende che riguardano la sanità ed è giusto che sia così. Ricordiamo che oltre ad essere consigliere comunale è anche consigliere provinciale, Sergio Costanzo, ha fatto alcune riflessioni, come nel suo spirito di uomo libero, ma sicuramente ribadisco alcun riscontro negativo in esito alle vicende dell'amministrazione comunale, che riassunte dal sindaco Sergio Abramo vogliono significare cambiamento assoluto nella direzione di dare risposte concrete per quanto possibile immediate alla città.